Allarme rientrato a Monteroduni dove nella serata di ieri una giovane mamma di 44 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. La figlia rientrata a casa non riusciva a farsi aprire la porta dalla madre per cui preoccupata ha deciso di telefonare al padre. Vista la situazione sono stati chiamati i vigili del fuoco del comando provinciale di Sernia che arrivati sul posto hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso per entrare in casa. La 44enne era deceduta ed è stata trovata riversa a terra probabilmente stroncata da un malore improvviso come constatato dal medico intervenuto con il 118. Sul posto è arrivata anche una pattuglia di carabinieri per gli accertamenti del caso. Il magistrato di turno dopo il parire del medico che ha stabilito la morte per cause naturali probabilmente un ictus ha dato il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari. Nella giornata di domani si svolgeranno i funerali.